Primo rappresentante della razza da pastore, pastore Maremmano Abruzzese. Pastore Svizzero Bianco, pastore Tedesco a Pelo Lungo e pastore Tedesco a Pelo Corto. Cane Lupo di Sarlos, pastore Belga Tervüren. Cane Lupo cecoslovacco, pastore Delabri, bovado delle Fiandre, pastore Bergamasco. Bobtail, pastore Scozzese a Pelo Lungo. Birded Collie, border Collie, pastore Australiano, Australian Cattle Dog, Cap'n Dose. Moody, Shetland, Welcoorghi Pembroke. E concludiamo con lo Skipper Key. Si presentano intanto nel pre-ring i migliori soggetti del prossimo raggruppamento, secondo raggruppamento. Qui ci troviamo davanti al primo raggruppamento, razze da pastore bovari, esclusi bovari svizzeri, che fanno parte del secondo raggruppamento che vedremo successivamente. E quindi in questa categoria troviamo tutte le razze da pastore, quindi quelle razze che vengono utilizzate sui greggi e le razze da bovari, ossia quelle razze che vengono utilizzate per il governo delle mandrie. Vediamo quale sarà la pre-selezione, pastore Svizzero Bianco che si accomoda sul primo bollo, pastore Della Bri, pastore Bergamasco, Beardy Conley, pastore australiano, ne manca uno, Australian Cattle Dog. Un ringraziamento agli altri soggetti, li vedremo ora muovere singolarmente a partire dalla prima razza, che è il pastore svizzero bianco, movimento up and down, come abbiamo visto fare fino ad ora. che è una razza che nonostante il nome è stata riconosciuta dall'America, allora il pastore Della Bri, razza di origine francese, che esiste in due varietà di colori, il fulvo grigio e il nero adesia, questo ovviamente è il fulvo grigio, vengono giudicate separatamente, ma soltanto una cede come miglior di razza sull'indonore. Pastore Bergamasco che abbiamo visto rappresentato nelle razze italiane, razza molto antica, ovviamente originario delle valli bergamasche. E ora la volta del colli barbuto, bearded colli, perché l'abbondanza di pelo sul muso crea così la tipica barba, molto tipica di questa razza, che è una razza da pastore di origine inglese. Mentre la razza che vedremo successivamente, il pastore australiano ha una lunga storia, perché nasce dai paesi baschi, poi si trasferisce in Inghilterra a seguito dei pastori, da lì in Australia, dall'Australia ai paesi occidentali degli Stati Uniti, che si innamorano di questa razza, ne redigono lo standard, quindi la riconoscono, quindi nonostante la denominazione pastore australiano, è una razza di origine americana. Mentre è puramente australiano, l'Australian cattle, che fra le sei razze che sono rappresentate, appartiene alla categoria dei bovari, quindi questa razza viene utilizzata per il governo delle manze e non sul gregge. Vedremo tra poco quale sarà il primo finalista per il nostro Best in Show. Al terzo posto l'Italia, il pastore bergamasco. A secondo posto l'Inghilterra con il Bearded Collie. E vince l'America con il pastore australiano, che ci fa un giro di ring, è il primo finalista del Best in Show dell'esposizione internazionale di Sedriano, che apre questo lungo weekend cinofilo. E io qui ho trovato una ragazza che sta in piedi invece che seduta. Mi sembrava un filino agitata e ho detto, avviciniamoci, sentiamo che cosa c'è. Gli ho chiesto il nome. Luna. E Luna è agitata per un motivo molto molto particolare. Sì, perché il mio cane sta per entrare in ring. E insomma, se il tuo cane sta per entrare, ci credo che sei agitata. Ma dimmi un po', come si vive questa manifestazione dall'altra parte della barricata? Perché noi siamo tra il pubblico, ma tu sei tra chi partecipa attivamente. C'è sicuramente molta attesa, molta aspettativa, però anche molte, molte soddisfazioni. Sono convintissima di questo. Per l'aspettativa, eh ragazzi, noi cosa possiamo dirti? Un grosso in bocca al lupo. Facciamo il tifo per te e speriamo che crepi, povero lupo. Grazie mille.